Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorio Santotto e oggi voglio parlare degli Screen Actor Guild Awards del 2022 che si sono tenuti nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorsi. Premi che hanno riservato qualche sorpresa, per chi non lo sapesse, sono i premi dati dal sindacato degli attori a attori, registi e dati ai lavori sia del cinema che della televisione e che di solito anticipano la tendenza per gli Oscar, perché a livello statistico, nella maggior parte dei casi il film che vinceva i SAG, o i SAG Awards, il miglior cast in un film, vinceva poi il premio al miglior film e gli attori e le attrici che vincevano il premio nelle loro categorie ai SAG solitamente vincono anche per gli Oscar, però non è matematico, diciamo che le probabilità sono alte e questo va ad avvalorare in maniera considerevole le quote per le scommesse per quanto riguarda le vittorie agli Oscar per cui questo video lo faccio ogni anno, perché nonostante i SAG interessino di meno rispetto agli Oscar ovviamente hanno una loro importanza, per cui è secondo me decisiva come premiazione diciamo che è quella che va a dare un colpo al cerchio e uno alla botte prima degli Oscar che saranno esattamente un mese dopo, nel 27-28 marzo, quindi un mese dopo i SAG per cui adesso parliamo di queste premiazioni che sono state un po' particolari hanno vinto anche alcuni che non mi sarei aspettato per cui bisogna fare attenzione perché al miglior cast ha vinto un film che non credevo sinceramente che potesse vincere gli Oscar dopo questa vittoria mi chiedo, è così impossibile? cioè è uno di quei casi in cui il film che vince il miglior cast ai SAG non lo vincerà gli Oscar? oppure contro ogni aspettativa i due premi saranno identici? vediamo un po', telefono alla mano vado a guardare un po' la lista di premiazione e candidatura anche perché altrimenti farei fatica visto che sono tanti nomi e non riuscire a memorizzarli e vediamo cos'è successo allora, miglior attore protagonista c'erano Will Smith per King Richard Calvier Bardem per La Proposita di Riccardo Benedict Cumberbatch per Il Potere del Cane Andrew Garfield per Tic Tic Boom Denzel Washington per Macbeth praticamente gli stessi che abbiamo agli Oscar e ha vinto Will Smith per Una Femmina Vincente e King Richard ed è per questo che io sono rimasto sorpreso perché io pensavo che potesse vincere qualcun altro ma si faceva un gran parlare, mi dicevano, negli Stati Uniti America di Will Smith questa vittoria ai SAG di Will Smith mi fa pensare che forse, in questo specifico caso potrebbe effettivamente vincere lui l'Oscar come miglior attore protagonista del resto è un film che è pensato con questo specifico scopo cioè lui proprio ha voluto produrlo, interpretarlo perché sapeva che forse avrebbe vinto un premio importante con questa candidatura non lo so se dovesse vincere non è che mi andrebbe male per amore del cielo però, secondo me, in questa rosa il migliore rimane Denzel Washington senza nulla togliere gli altri anche Cumberbatch, a mio modesto parere ha fatto un ottimo lavoro poi, miglior attrice protagonista avevamo Jessica Chastain per gli occhi di Tammy Faye Olivia Colman per La figlia scura Lady Gaga per House of Gucci Jennifer Hudson per Respect Nicole Kidman per A proposito di Riccardo qui ha vinto la Chastain per gli occhi di Tammy Faye ma dicono che la Chastain sia effettivamente la favorita anche agli Oscar quindi non mi stupirei se dovesse vincere effettivamente lei questo premio e ci sta miglior attore non protagonista ecco, questo è interessante c'erano Ben Affleck per il bar della grande speranza ovvero The Tender Bar Troy Cozzur per i segni del cuore Coda Bradley Cooper per Licorice Pizza Gerald Leto per House of Gucci Cody Smith-McPhee per i poteri del cane questi erano un pochino diversi come nomi rispetto a quelli degli Oscar perché ce n'erano alcuni ma altri no ad esempio se non è Robin Affleck non c'è agli Oscar così come non c'è Bradley Cooper così come non c'è Gerald Leto quindi alla fine era più che c'era Cody Smith-McPhee che secondo me vincerà agli Oscar e qui via ha vinto Troy Cozzur per i segni del cuore ma credo che agli Oscar vincerà Cody Smith-McPhee ne sono abbastanza sicuro miglior attore c'era un protagonista qua interessante quindi in effetti anche qua ce n'è da dire cioè ce n'è da pensare ti dà da pensare come cosa quindi vediamo un attimino come sarà però diciamo che le statistiche vagano il più per gli attori per attore, attrice e protagonisti più che per gli non protagonisti però miglior cast cinematografico c'erano i segni del cuore Coda Belfast, Don't Look Up, House of Gucci Una Faglia Vincente, King Richard ha vinto i segni del cuore Coda ora ha vinto il miglior cast io l'ultimo che pensavo che avrebbe potuto vincere agli Oscar è proprio Coda io puntavo più su Belfast per cui mi chiedo è uno di quei pochissimi casi in cui c'è una differenza oppure contro ogni aspettativa come dicevo prima Triunferà Coda che peraltro potete trovare ve lo ricordo in acquisto, noleggio digitale è già su tutte le piattaforme come Ciri, Racontentv, Youtube a pagamento eccetera quindi è già visibile nelle vostre case se volete quindi boh mi stupisce non l'ho ancora visto lo guarderò in questi giorni poi in questi giorni vi porterò anche la recensione di Belfast tra l'altro migliori controfigure cinematografiche No Time to Die Black Widow Dune Matrix of Reactions e Shang-Chi ha vinto No Time to Die ci può stare quindi questi erano i premi per il cinema e devo dire che ce ne sono stati alcuni di interessanti nel senso che sono curioso di sapere se i premi dati ai attori e il premio a miglior cast siano effettivamente simili a quelli che vedremo agli Oscar staremo a vedere in alcuni casi penso che di differenze ce ne saranno perché erano proprio differenti le candidature ovviamente in altri non lo so questo coda mi fa pensare comunque saprò dirvi quando l'ho guardato comunque passiamo ai premi per la televisione che sono sempre interessanti allora migliori attori in un film televisivo miniserie avevamo Michael Keaton per Dope Sick Murray Bartlett per The White Lotus Oscar Isaac per Scena da un matrimonio John McGregor per Alston Evan Peters per Omicidio a East Town e ha vinto Michael Keaton per Dope Sick grazie al cazzo è stato bravissimo meritato miglior attrice in un film televisivo miniserie c'era Kate Winslet per Omicidio a East Town Jennifer Coolidge cioè la mamma di Stifler per The White Lotus Cynthia Erivo per Genius Margaret Wolle per Maid Jean Smart per Omicidio a East Town ha vinto Kate Winslet per appunto Omicidio a East Town miglior attore in una serie drammatica c'era Lee Jung Jae che è il vecchietto di Squid Game Brian Cox per Succession Billy Crude per The Morning Show Kieran Culkin per Succession Jeremy Strong per Succession nonostante tre candidature nella stessa categoria a Succession ha vinto Lee Jung Jae per Squid Game miglior attrice in una serie drammatica Jung Oyeon per Squid Game Jennifer Aniston per The Morning Show Elizabeth Moss per The End Sarah Snoop per Succession Sarah Snoop per Succession Ray Switherson per The Morning Show e ha vinto Jung Oyeon per Squid Game già due premi che direi che non è male come idea miglior attore in una serie commedia Jason Sudeikis per Ted Lasso Michael Douglas per il metodo Cominsky Brett Goldstein per Ted Lasso Steve Martin per Holly Mordles in the Building e Martin Short sempre per Holly Mordles in the Building e ha vinto Jason Sudeikis per Ted Lasso e dagli torto è un cazzo di attorone in una serie fantastica ci si poteva fare poco miglior attrice in una serie commedia c'era Elle Fanning per The Great Jean Smart per Axe Sandra Ho per la direttrice Juno Temple per Ted Lasso Anna Waddingham per Ted Lasso e ha vinto Jean Smart per Axe altra serie HBO Max interessantissima che in Italia non è ancora uscita che io sappia miglior casting in una serie drammatica Succession The Handmaid's Tale The Morning Show Squid Game Yellowstone ha vinto Succession miglior casting in una serie commedia Ted Lasso The Great Axe Immietro Kominsky Only Murders in the Building ha vinto Ted Lasso meritatamente migliori controfigure televisive c'erano Squid Game Cobra Kai The Fuckin Winter Soldier Loki Omicinistown ha vinto Squid Game che sale a tre statuette quindi tre statuette vinte per Squid Game per cui questi sag sono risultati interessanti anche da un punto di vista puramente televisivo il che ci può assolutamente stare vi dico che sono stati dei saggi abbastanza sentiti nel senso che se ne è parlato un po' più del solito posso capire il perché perché comunque oggi era una diciamo e quest'anno era una è una premiazione un po' strana tanti film che sono usciti in streaming siamo ancora in pandemia poi tra l'altro insomma ci sono anche delle tensioni non indifferenti da un punto di vista bellico quindi non lo so si vede che la gente aveva bisogno di distrarsi ma mi è sembrato di sentirne parlare un po' di più rispetto al solito cinematograficamente parlando sono dei premi che sicuramente possono dare da pensare nel senso che poi televisivamente sono contentissimo per quello che hanno fatto per quanto riguarda Squid Game nel senso che tre statuette per una serie coreana non è una cosa semplice da ottenere soprattutto se si pensa al premio perché questo è un premio particolarmente interessante e dovete anche pensare che quest'anno i Golden Globe non sono stati trasmessi hanno avuto praticamente zero risonanza per cui una premiazione come i SAG acquisisce ancora maggior valore rispetto ai Golden Globe e peraltro sono premi che di solito vengono tenuti nettamente più in considerazione per quanto riguarda gli anticipi degli Oscar quindi secondo il mio modesto punto di vista direi che ce n'è ce n'era da dire nel senso che alla FIPA come potete vedere sono anche dei premi molto snelli non è che hanno tante categorie è tutto ridotto abbastanza all'osso sono abbastanza tranquilli come premi eppure hanno un'importanza e una risonanza ben al di sopra di quello che si potrebbe immaginare e pensare quindi io spero spero per l'appunto che agli Oscar ci sia un minimo di meritocrazia però se dovesse vincere Will Smith come ho detto prima a me non darebbe fastidio nel senso che alla fine l'ha voluto così tanto che sotto sotto quest'uomo se lo merita anche ha dato una buonissima interpretazione in King Richard sicuramente c'è chi ha fatto meglio di lui non dico di no però se dovesse vincere mi verrebbe da dire ah è rubato c'è anche una tematica molto cara effettivamente all'Academy che è quella del razzismo che è trattata abbastanza bene comunque e si parla di un personaggio anche abbastanza controverso che non esce benissimo non esce come un grande personaggio come un grande salvatore un genio totale e basta no esce anche con i suoi difetti sebbene ci siano anche dei pregi per cui è un personaggio molto umano che potrebbe anche valere l'Oscar a chi lo ha interpretato quindi io alzo le mani staremo a vedere ma la cosa più interessante rimane Coda chissà se questa vittoria di Coda sia profetica oppure no ma fatemi sapere voi chi vorreste che vincesse agli Oscar e cosa ne pensate di questi saga io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente grazie per aver seguito qui e io vi do appuntamento al prossimo mui vlog ciao a tutti